Mi chiamo Angelo, sono un agente immobiliare da oltre 25 anni. Dal 1997 esercito questa professione, dapprima in collaborazione con alcuni gruppi immobiliari. Poi negli ultimi tre anni ho fondato la Sarcasio Immobiliare, provando l'esperienza della singola agenzia. Mi abbalgo di alcuni collaboratori che per me sono molto preziosi. I rapporti che ci regolano sono la lealtà, la trasparenza e il reciproco rispetto. Siamo sul campo tutti i giorni per ritagliarci una fetta di mercato. Mi è stata data la possibilità di entrare a far parte del gruppo immobiliare San Pietro e ho accettato. Non si tratta di un franchising esteso sul territorio nazionale, ma bensì di una vera e propria azienda esperta in marketing immobiliare, suddivisa per reparti e competenze specifiche. L'azienda è guidata da una persona che stimo moltissimo, il presidente Roberto Manferdini. Non ho avuto alcun dubbio nell'operare questa scelta, quando ho recepito i valori che questa azienda promuove e che sono gli stessi nei quali ho sempre creduto. Trasparenza, lealtà e correttezza nei rapporti tra i clienti e le persone che fanno parte del gruppo, che insieme sono la forza fondante per ottenere risultati certi. Tutto questo è mostro da una smodata passione per questa attività, che proprio come Roberto svolgo ormai da diversi anni. Certamente essere allineati è una marcia in più. Inoltre non dobbiamo dimenticare che fattori come coesione e organizzazione, ormai consolidati negli anni, sono fattori primari per ottenere risultati in termini commerciali. La conoscenza del mercato, seppur con tutti questi cambiamenti ciclici, è un aspetto importante nel scegliere su chi affidarsi per intraprendere attività immobiliare, soprattutto se supportate da un gruppo come quello di Immobiliare San Pietro, con il quale ho il piacere di condividere il mio percorso insieme ai miei collaboratori. La nostra è una vera e propria agenzia per la casa, esperta in marketing immobiliare, vicina al cliente anche oltre la chiusura della trattativa. Infatti abbiamo una divisione interna apta a fornire servizi utili per rendere l'immobile la casa dei tuoi sogni.